Salve gente, allora oggi come vedete non sono a casa, sono a svolgere la mia seconda attività, il mio secondo hobby però ne ho approfittato comunque per vederla la partita perché ancora non stiamo iniziando quelle che sono le nostre indagini e ho visto una partita dove la Lazio si conferma, insomma anche oggi mi è piaciuta molto, mi sono piaciuti molti movimenti mi sono piaciuti anche i movimenti della difesa di cui ne stavamo già parlando nella scorsa partita non più una difesa prettamente a quattro, un po' più liberi i tersini anche se secondo me la scelta di Isai è sempre un po' discutibile però oggi non ha sbiato solo lui perché anche Marosic dall'altra parte il gol dell'1-1 ragazzi veramente da polli un risultato diciamo che sono tre punti persi, però non mi arrabbio perché alla fine diciamo che se vedo un percorso vedo un qualcosa che mi sembra qualcosa di diverso nell'atteggiamento e nella voglia è pur vero, lo diciamo sempre ad ogni partita importante che quando affrontiamo squadre diciamo da metà classifica in su abbiamo un atteggiamento, quando affrontiamo le squadre da metà classifica in giù invece non so perché abbiamo un atteggiamento completamente sbagliato e adesso tra Fiorentina e Atalanta ovviamente parliamo di una classifica più alta che non bassa e abbiamo fatto le nostre prestazioni, oggi sicuramente erano tre punti che potevamo benissimo portarci a casa però non è andata così, non è andata così perché sappiamo benissimo soprattutto contro l'Atalanta ve lo dico da non so da quanto tempo, l'Atalanta non demorde mai fino all'ultimo minuto quindi non puoi deconcentrarti, è come fare una partita contro una squadra europea, si sa quando si gioca in Coppa che non ti poti strarre un minuto e l'Atalanta ha pareggiato. Un pareggio giusto? Guarda io per quello che ho visto ragazzi poi alla fine non è che abbiamo costruito chissà quanto e non è che anche loro hanno fatto chissà quanto perché penso che Reina ha fatto mezza parata su due gol e mezza parata ma ufficialmente proprio mezza parata è basta perché i due gol non l'ha toccata mentre noi abbiamo fatto magari quel mezzo tiro in più però nel complesso insomma il pareggio ci può stare però certo fa male beccare un gol proprio all'ultimo secondo del primo tempo e un altro gol a un minuto allo scadere del secondo questo fa male però questo è il calcio, tante volte l'abbiamo fatto noi, quante volte l'abbiamo fatto noi penso che Gasperini ancora sta cercando il mano di Caseto oggi dai dai ho detto non sono affranto, mi dispiace non aver portato a casa i tre punti ma non sono affranto perché con l'Atalanta è sempre una partita difficile ma soprattutto non sono affranto perché ripeto ho visto secondo me un qualcosa che mi sembra di un continuo perché non ho visto prestazioni completamente ottime ma diverse ho visto un continuo rispetto all'altra prestazione quindi purtroppo adesso c'è la pausa e non potremmo avere subito una verifica però sono convinto che abbiamo secondo me imboccato soprattutto Sarri l'allenatore penso che ha imboccato la strada anche perché la riconferma di Luis Alberto insomma penso che anche lui ha una visione nuova quella che io mi auguravo e che invece la sua cocciutaggine l'ha bocciato ragazzi vi devo salutare qui dal Molise dove mi trovo e ne riparliamo magari domani della partita e di quello che sarà successo nelle altre gare quindi olive dolci e vi ricordo sempre se non vi siete iscritti iscrivetevi cliccate sulla campanellina e lasciate un like prima di abbandonare il video ovvero adesso ciao